Quest'anno a Milano, al Fuorisalone 2022, tra i protagonisti c'erano anche Lev e il suo distributore italiano Tecnostyle, che hanno mostrato l'attuale produzione audio e video del produttore tedesco, che non teme confronti dal punto di vista delle pure prestazioni, e che è caratterizzata da una cura quasi maniacale per il design e la qualità delle finiture. A Milano abbiamo incontrato anche José Barreiro López, Vice President of Global Sales and Commercial Development. Ciao José, chi ha deciso la presenza di Lev qui al Salone del Mobile? Grazie a tutti i nostri filosofi in termini di designare non solo le esperienze audio o TV o video, da una perspectiva tecnologica, ma anche abbiamo una filosofia di design su tutti i nostri prodotti. Abbiamo messo molta attenzione a dettagli in termini di materiale, di fabri, l'alluminio che utilizziamo sui nostri prodotti, ma anche come abbiamo designato da una perspectiva di 360 gradi i nostri prodotti. E anche il nostro target, il consumatore, anche se fosse architetti, designatori interiore e installatori costanti, era anche una ragazza di cui volevo essere qui nel Salone del Mobile, qui a Milano, per anche mostrare molti nostri prodotti, tanto video e audio. Ora siamo a giugno, settembre sta arrivando, Lev sarà a IFA? Non ci saranno fisicamente a IFA nel settembre, ci saranno in Berlino durante l'evento. La decisione che abbiamo fatto anche l'anno scorso, che abbiamo deciso di prendere l'anno scorso, è avere un tipo di più personale di evento con i nostri partneri. Ci saranno molti prodotti in Germania, ci saranno la prodotti in Berlino, dove la firma è stata fondata molti anni fa. e ci saranno invitando un numero di partneri internazionali da parte di Germania a Berlino, per mostrare alcuni nostri nuovi concepti e prodotti a questo evento aperto, o roadshow. E ci saranno invitando anche alcuni nostri partneri germani, a questo roadshow, dove potremo avere più tete a tete, o face-to-face, in una discussione molto vicina con i nostri partneri strategici. Cosa dobbiamo aspettarci dal vostro roadshow a settembre? Ci saranno prodotti con diagonale maggiore di 65 pollici, come ad esempio 77 pollici, e cosa mi puoi dire sui 42 pollici, per quanto riguarda la tecnologia OLED? Abbiamo diversi richiesti in termini di piccola e di piccola. Non ho l'obiettivo di comunicare, quale screni sorgeremo ci saranno l'anno scorso. Ci saranno dicendo che stiamo investigando e stiamo lavorando sui formati più piccoli. formati di screna, oggi abbiamo 77-inch oled screna in il nostro portofolio e anche 48-inch oled screna in il nostro platforme di build eye o collezione, ma stiamo anche investigando le screna oled screna e anche le tecnologie oled screna oled screna. Quando ci presentiamo avremo un po' più lungo. Vista la carenza generale di componenti e materie prime, avete problemi nella produzione? Abbiamo deciso già l'anno scorso di fare investimenti strategici per comprare molti componenti e pannelli in avanti, prima che tutti questi costi e costruzano il mercato e l'industria, quindi abbiamo bufferto in termini di componenti lungo leantime componenti, quali Wifi, Gluetooth, eccetera. Abbiamo costruito già l'anno scorso. Abbiamo già comprato un anno per un anno costruito di stock, quindi non abbiamo avuto problemi di stock out e continuiamo a investire in lungo leantime componenti, almeno per poter sicurare la disponibilità per il nostro portafoglio. Come sai, abbiamo i nostri headquarter in Germania, in Kronach, dove abbiamo anche il nostro mercato globale e il stock, e abbiamo enough stock per tutti i nostri partenari, quindi non abbiamo problemi di disponibilità sui prodotti o prodotti tv, quali i chipsetti o i paneli. Grazie, mister Lopez. Prego, mille grazie a lei. Per le risposte fino ad ora e ci vedremo a Berlino. Ci vediamo a Berlino. You will definitely be getting an invitation from us. Thank you very much.